papà! che c'è? papà! che c'è? papà! riesci a fare un salto? si! vai! fai un salto grande che vuoi fare? vuoi tirare al canestro? vieni fuori dai! vieni fuori! ecco qua! ecco qua! vai! corri corri! ecco! alza l'altro! via! no! per poco! devi tirare più forte! questa qua è gol! quindi se la palla va lì è gol! esatto! bravo! così è gol! quale scivolo vuoi fare? quello rosso gira gira! rosso rosso gira gira! ciao a tutti! chiunque adorado o papà! che c'è al corno? che lo faccio adesso? che bello! che bello!